Adamo, senza stipendio, sospesi, ma non licenziati? Esatto, sospesi, non licenziati, non abbiamo possibilità di sapere se possiamo prendere un altro lavoro, dobbiamo semplicemente aspettare di capire oggigiorno il sindacato che ci dà una mano per poter riavere qualcosa di nostro, quindi dallo stipendio o la possibilità di un altro lavoro. Non siete assolutamente in crisi, ma un po' in tutta Italia? Sono in tutta Italia, sono 43-45 punti vendita perché comprende Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli e Puglia. Come sei arrivato a questa situazione? Hanno comprato fondamentalmente gli investimenti sbagliati, hanno voluto crescere, visto che le altre società di e-commerce, che in realtà non è, hanno cominciato a ingrandirsi e per stare dietro alla crescita di un pacchetto come poteva essere il gruppo Unieuro, SGM e Distribuzione, loro hanno voluto investire, hanno prima rilevato tutti i negozi di Darty che in Italia, catena francese, aveva un po' di problematiche, dopodiché è stato fatto l'acquisto del gruppo FNAC che comprendeva grossi negozi, tra cui Napoli, Milano, Torino, Bologna, dove oltretutto il livello del prodotto era oltretutto a livelli molto più alti di quello che noi ci potevamo permettere, sinceramente, e questi investimenti hanno portato ad avere dei costi di gestione altissimi che non si potevano permettere. In più, la società è passata da 20 punti vendita ai primi 70 punti vendita in tre step semplicissimi, dove l'organico interno degli uffici, ottime persone per l'amore del cielo, però erano persone che potevano gestirne 20, non 70, quindi anche i buyer, gli veniva dato semplicemente poco prodotto economico per poter acquisire prodotti e quindi rimetterli in vendita. Ci sono delle speranze per il futuro? Sicuramente non di questa azienda, a meno che hanno già fatto questo gioco delle tre carte, siano stessi loro che si ripresentano e ricomprano tutto il pacchetto, ma oggi non penso, anche perché tutto il materiale è stato trasferito nell'unico negozio di loro proprietà che è a Taranto, quindi ripeto, sinceramente noi non ci crediamo più, anche perché ricominciare a lavorare per questa società a cui noi sono dieci anni, io dieci anni, molti miei colleghi sono 35 anni che danno questo tipo di sangue, perché fino allo scorso mese ci hanno dato direttamente, addirittura il nostro ex amministratore ha mandato una lettera, dobbiamo credere nell'azienda assolutamente, senza problemi, noi oggi siamo fuori da un punto vendita, senza le nostre cose che sono chiuse all'interno del punto vendita, quindi non possiamo accedere neanche a proprietà di nostro carico, di nostro acquisto, prodotti di clienti, assistenza di clienti, che è la cosa più importante, perché per noi eravamo noi alla fine la faccia della società, quindi chi veniva da noi riconosceva me come il ragazzo che gli seguiva le problematiche della telefonia, il mio collega Marco per quanto riguarda i tv, a oggi noi siamo delle persone che ancora ci capita in giro, veniamo non dico additati, per l'amore del cielo che è una brutta parola, però veniamo riconosciuti come il brand Troni, e stessa cosa come a livello nazionale, tutto il restante del greco e la società dove è gestito il brand Troni, veniamo visti come la pecora nera, perché ovviamente abbiamo mandato informazioni su 250-200 punti vendita, quando chi in realtà è in problematica è soltanto DPS Group con i 45.